Risotto con asparagi. Questo risotto con asparagi è una ricetta semplice che si prepara in pochi passaggi ma che regala grandi soddisfazioni con il suo sapore delicato e il suo profumo intenso. Gli asparagi, protagonisti indiscussi della ricetta, conferiscono al piatto un gusto particolarmente intenso che si sposa alla perfezione con il riso. Ideale sia come piatto di mezzogiorno che come cena, è un ottimo modo per mangiare in modo sano e gustoso. Gli ingredienti necessari per preparare questo piatto sono 300 g di riso, 1 mazzetto di asparagi, 1 cipolla, 1 bicchiere di vino bianco, olio extravergine di oliva, sale, pepe, brodo vegetale cubi, 50 g di parmigiano grattugiato, burro cubi. Per preparare il risotto con asparagi, inizia pulendo gli asparagi, tagliali a metà e eliminate la parte finale più dura. Tagliali a pezzettini e mettili da parte. In una pentola scalda un po' d'olio con la cipolla tritata finemente, quindi unisci gli asparagi e lascia cuocere a fuoco basso per qualche minuto. A questo punto unisci il riso e lascia tostare per un paio di minuti, mescolando di tanto in tanto. Sfuma con il vino bianco, quindi unisci del brodo vegetale caldo, un pizzico di sale e una macinata di pepe. Cuoci a fuoco medio, mescolando di tanto in tanto. Quando il risotto sarà quasi cotto unisci una noce di burro e il parmigiano grattugiato, mescola ancora e servi subito.